Buongiorno, San Casciano Valdipesa, Villa del Cigliano, Chianti, Gallo, Nero. Siamo qua insieme a Niccolò Montecchi, responsabile della cantina, per valutare i rischi che ci sono nella vendemmia e Niccolò mi stava appunto dicendo quali sono. Ciao, buongiorno, siamo veramente agli ultimissimi giorni prima della vendemmia, mancherà ormai poco o meno di una settimana e di fatto sono i giorni cruciali in cui due sono i principali rischi. Il primo è quello legato all'andamento meteorologico, ci possono essere stagioni o dei settembre in cui per esempio l'andamento è molto siccitoso, magari venendo in agosto anche questo molto caldo e siccitoso, in cui per esempio la pianta potrebbe essere in blocco vegetativo e non riusciamo a ottenere il grado di maturazione che cerchiamo. In realtà in questa stagione il rischio principale è semmai quello opposto, l'eccesso di pioggia. L'eccesso di pioggia possono compromettere i valori analitici che stiamo cercando di avere per poter raccogliere l'uva al punto giusto e nel peggiore dei casi possono anche far partire dei fenomeni di marciume. L'altro problema che forse è un pochino più recente negli ultimi 10 anni è il fenomeno degli ungulati, cioè la fauna selvatica in particolare cinghiale e caprioli in alcune zone hanno una popolazione tale per cui si fanno le grandi scorpacciate d'uva e purtroppo possiamo subire anche dei grossi danni dal punto di vista quantitativo. Soprattutto sul primo fattore di rischio, cioè quello meteorologico, in realtà molto raffare non c'è, siamo veramente appesi un po' a un filo e questo dimostra come ancora oggi l'agricoltura per i fattori di rischio che sono del tutto imponderabili. Perfetto, grazie Niccolò per il tuo contributo. Ti salutiamo da San Casciano, Valli Pesa, da questa bellissima terra che puoi vedere alle nostre spalle e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!